...con Enzo Mane, cioè come potrebbe un po' cambiare la scuola nelle materie modernizzate? Ecco, vediamo le sue idee. Lui lo dice, la sua riforma. Matematica, storia dal 1945. Come? Perché? Chi se ne prega del 1600? Ma come? Adesso, va! Ma come basta? Il rinascimento, gli articoli adesso vanno. Gli egizi, i greci, ma perché? Ma non si parli a... Saltiamo anche tutte le guerre. A partire, almeno dall'inizio del secolo. Questo è cadere. Ma allora, c'è stata la guerra del 15-18, c'è stata la guerra del 14-45, poi e da lì si parla. Ma cosa c'è stata? C'è una via viaggi. Geografia e viaggi? È una materia. Ma che materia è? Anche viaggi, ma chi se ne frega degli affluenti, dei confluenti del fiume? Ma chi se ne frega? Ma perché? Quello è il fiume, quello va troppo, e poi... Lo vogliamo studiare? Tanto non si sa perché vanno tutti nel mare Ionio. Ma cosa sta dicendo? Ma perché? Il po', l'anno, tutti nello Ionio. Non è anche uno. Non è anche uno. Tra i fiumi importanti che ha uno Ionio, neanche mezzo. Un torrentello, forse. Dibù e viaggio.